in una stanza quattro candele bruciando si consumavano lentamente il luogo era talmente silenzioso che si poteva ascoltare la loro conversazione la prima diceva io sono la pace ma gli uomini non riescono a mantenermi penso proprio che non mi resti altro da fare che spegnermi e a poco a poco la candela si lasciò spegnere la seconda candela di sé io sono la fede ma purtroppo non servo a nulla gli uomini non ne vogliono sapere di me e per questo motivo non ha senso che resti accesa appena ebbe terminato di parlare una leggera brezza soffiò su di lei e la spense triste triste la terza candela sua volta disse io sono l'amore e non ho la forza per continuare a rimanere accesa gli uomini non mi considerano e non comprendono la mia importanza e senza attendere oltre la candela si lasciò spegnere in quel momento un bambino entrò nella stanza vide le tre candele spente e impaurito per la semi oscurità disse ma cosa fate voi dovete rimanere accese io ho paura del buio e così dicendo scoppiò in lacrime allora la quarta candela impiettiosita disse non piangere finché io sarò accesa potremo sempre riaccendere le altre tre candele io sono la speranza con gli occhi lucidi di lacrime il bimbo prese la candela della speranza e accese tutte le altre che cosa vuol dire questa storia che non si deve spegnere mai la speranza dentro il nostro cuore e che ciascuno di noi può essere lo strumento come quel bimbo capace in ogni momento di accendere con la sua speranza la fede la pace e l'amore a mercoledì grazie 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 grazie